No no, questo è il ritmo che mi piace, forza le braccia, le braccia, vai, via di là, via di là, buono, il tuo lambas, andrei, sul fete, vai, bravo, bravo, vai. Buono Davido, bravo, 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 vista come va la gamba davanti, hai capito come funziona, occhio, trattieni eh, vai, cambia la guardia e rientra, cambia la guardia e rientra. Via, burlando, vaci sotto di braccia, forza che sei più basso, basso, fai te, vai, vai, bravo. Guarda dove c'hai le braccia, guarda dove c'hai le braccia, tienile su, via, uno, due, combinate con le braccia, combina con le braccia, burlando. Devi lavorare al corpo con lui, via, è più alto, forza, basso e braccia, via, via, esci di là, esci. Tieni sulle braccia, tienile sulle braccia, vai con le gambe Davide, subito rispondi Davide, gamba davanti Davide, via, tienilo lontano, vai. Ciao, ciao. Ciao.